Cosa ne penso dei nuovi profumi di Alex? Questa è la collezione privata di Alex. Ho già parlato in un video precedente dell'altra sua collezione, quindi gli Alex Plus, ma questo è un video dedicato esclusivamente alla sua nuova linea privata che ha fatto uscire in realtà da poco al Pitti Fragranza. Vi dirò cosa ne penso, li ho testati da quando sono tornato al Pitti, quindi me li ha lasciati lì, li ho testati, li ho provati, li ho sentiti, li ho fatti sentire a varie persone, e vi voglio dire la mia opinione vera e propria, pura, senza nessun filtro, quindi anche se è mio amico, anche se è mio collega, anche lui me l'ha chiesto proprio di spontanea sua volontà, mi ha detto Marco mi raccomando, voglio che la tua opinione sia vera, sia pura, quindi è quello che farò, quindi non preoccupate, non avrò nessun bias se vi dico una cosa, è perché veramente la penso, come faccio con tutti in realtà i prodotti che mi danno, a volte, ok, ci sono prodotti con cui collaboro, ci sono brand con cui collaboro, però contate che molte collaborazioni neanche le accetto se non sono prodotti di cui già parlerei di mia spontanea volontà, e i prodotti che invece sponsorizzo, decido di parlarne, sono prodotti che comunque secondo me valgono e possono aiutarvi in qualche modo, quindi ne parlo per quel motivo lì. Quindi iniziamo, se non mi conoscete, mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda full time, ho fatto anche dei concorsi all'estero, sono tornato poi in Italia e mi sono dedicato alla crescita personale, la crescita personale, la cura di sé, mi ha portato pian piano a sviluppare invece una passione, o comunque una tendenza verso la crescita interiore, e quindi pian piano ho lasciato un po' questo mondo superficiale, se vogliamo chiamarlo, o di immagine della moda, e ho puntato invece su documentare il mio percorso di crescita interiore, il mondo anche non solo di cura di sé a livello esteriore, che è comunque il mio lavoro, quindi per quello profumi, per quello capelli, eccetera, ma anche proprio la mia crescita interiore e personale, ed è quello che faccio sui social, quindi sono passato come content creator full time, ed è quello che faccio al momento tutti i giorni, e quindi ho la mia routine di crescita personale, yoga, meditazione, corsi, viaggi, conosco persone, imparo cose, e documento allo stesso tempo questo percorso, cercando di magari aiutare più persone possibili, magari questa cosa può aiutare. In futuro sicuramente vorrò continuare a fare contenuti sempre più consapevoli, magari aprirò anche un canale probabilmente a parte, secondario, a breve, in cui parlerò solo di questa cosa, di crescita proprio interiore, non so ancora se in inglese o in italiano, fatemi sapere cosa ne pensate, se sapete l'inglese, o se secondo voi è meglio farlo in italiano, ma pensavo in inglese, perché poi l'idea di creare una community, aprire anche poi delle cose per aiutare delle persone, fare delle campagne, insomma aiutare quello che posso nel mondo, avere un piccolo impatto positivo, che sia a livello di ambiente, che sia a livello di salute mentale, tutto ciò che serve, perché ci sono tante cose che bisogna fare nel mondo. Ma dopo questa premessa, oggi invece andiamo a parlare di beauty, andiamo a parlare di profumi, e ho già fatto un video tra l'altro, se vi chiedete, ma come mai, scusami, tu parli di yoga, e poi di queste cose. Ho fatto un video su come conciliare beauty e crescita interiore, non sono due cose che sono incompatibili, quindi ve le lascio in descrizione, se volete darvi un'occhiata in cui spiego bene questa cosa, basta non essere veramente identificati con quello che si fa a capire che è un ruolo, e non è una cosa esistenziale, in realtà si può giocare con questa vita in questo modo, e i profumi sono una delle mie passioni, sono una delle cose con cui gioco volentieri, è diventato anche il mio lavoro da un anno a questa parte, però è veramente arte, è arte pura, è uno dei sensi, anzi secondo me è il senso più interessante, perché non è assolutamente necessario, siccome non viviamo più nella foresta e non ci serve sentire certi tipi di odori, però allo stesso tempo è direttamente collegato con le emozioni, con il cervello, con la memoria, e quindi puoi usare i profumi in tantissimi modi diversi, ci sono sfaccettature incredibili, è proprio un mondo molto molto bello. Come ho detto nel vlog che ho fatto per la Beauty Week e per la Fashion Week, la parte superficiale dei profumi di apparenza, di lusso, non è quella che piace tanto a me, io seguo il mondo profumi e cura di sé, proprio per un punto di vista di crescita, per un punto di vista artistico, per un punto di vista di bellezza, di esprimere se stessi, di indossare un'opinione, e secondo me i profumi servono proprio per esprimere se stessi. Ok, deve essere piacevole per far sì che le persone comunque lo apprezzino attorno a te, perché è un accessorio che comunque metti anche per gli altri, però allo stesso tempo è anche un modo di, un'intenzione, quindi se io oggi voglio odorare di chiesa perché è Halloween, o perché mi sento quel tipo di persona e voglio farlo stasera, domani voglio sapere di bubblegum o di bambina, esempio, si può fare quello che si vuole, quello è il bello, ed è questa cosa sottile che la gente non vede ma sente, che può veramente migliorare tantissimo, anche il tuo rapporto con gli altri è incredibile. E secondo me Alex con questa sua linea, al momento sono due profumi che ha lanciato, uno si chiama Citrodora e l'altro si chiama Gene Musk, ha fatto, devo dire, un ottimo lavoro. Allora, vi devo dire la verità, Alex Plus, i profumi che ha fatto in precedenza, sono profumi diversi, sono profumi proprio dedicati all'esplorare parti della profumeria che ancora sono state inesplorate, quindi proprio far impressionare o comunque stupire la gente che anche comunque sa di profumi, sente qualcosa di nuovo, sento i profumi che funzionano, che hanno un'ottima performance, ma che allo stesso tempo sono qualcosa di nuovo, ed è qualcosa che era piaciuto molto, siccome sono andati molto bene, il mio preferito è stato Golpar, veramente qualcosa di innovativo, anche perché gente come noi, che comunque lavora in quest'ambito, sente in continuazione sempre gli stessi odori, e quando vai poi a fiere tipo il Pitti o l'Exans, poi senti in continuazione sempre gli stessi profumi e non ci sono vere e proprie novità. Quindi ero contento quando ho apportato gli Alex Plus, perché senza nessuna aspettativa li ho sentiti e mi erano veramente piaciuti. Salvi a quello che mi era piaciuto un po' meno all'inizio, perché dicevo, ok, è un po' simile al resto, e invece poi, piano piano, testandolo e provandolo, anche quello mi era strapiaciuto, è qualcosa che va un po' più capito, quella semplicità che va capita e ti accorgi che è più complessa quasi degli altri. Vabbè, è un discorso un po' tutto mio, chiamatemi pure matto. E invece questi qua, ha fatto proprio un lavoro completamente diverso, mentre l'altro era un po' una collaborazione quasi. Qua invece è proprio tutto farina del suo sacco, non è ovviamente il naso, perché non ha senso, ragazzi, non è che uno si fa il profumo da solo, quella è un'arte e ci vuole una vita e dedicare la vita per farla. Sono proprio compositori, sono persone pazzesche, però ovviamente va commissionato, quindi l'idea, il packaging, tutto il personal brand c'è. E partendo dal branding, mi piace tantissimo, siccome ha fatto un lavoro pazzesco, se andate a vedervi il video che ha messo sul suo sito, che non so se l'abbia postato sui social, perché mi ha fatto capire che è una cosa che vuole tenere sul sito e continuava a dirmi, Marco, vedrai il lavoro, anzi col suo accento, zio, vedrai il lavoro che c'è sul sito, quel video che ha fatto, è veramente tanta roba, complimenti, proprio bello. Poi può piacere o meno lo stile, il packaging, il design e il branding. A me piace questa idea di qualcosa di un po' raro, questi profumi quasi in questa fantasia, questo mondo di fantasia, questo mondo un po' ipnotico, un po' fantasy, ma allo stesso tempo psichedelico, in questa foresta con le lucciole, le luci, tutto viola, nero, blu, che è anche quello che ha utilizzato poi per il packaging, il suo brand. E a me piace, mi è piaciuto molto. E vi devo dire che le boccette ad alcuni piacciono, ad altri meno, io queste boccette così le adoro, a me le boccette piccole, ve le ho sempre detto, le preferisco tantissimo, confronto le boccette grosse. Sarà forse un mio bias, perché ho talmente troppi profumi, che le boccette grosse sono quasi sprecate con me, quindi ho imparato a preferire quelle piccole, te le porti in giro, e possono anche essere rispruzzati, portandose in giro, eccetera, quindi le apprezzo, ed ha più un senso di esclusività, hanno di raro. Il prezzo di questi profumi è basso, confronto a quello degli Alex Plus, gli Alex Plus erano 200 e qualcosa mi sembra, questi sono a 120, sono 50 ml, e sono eau de parfum intense, ok, però contando che alla fine 50 ml, si è spruzzato due, tre spruzzi, in realtà alla fine ti va a durare quello che è, quindi secondo me qualità prezzo ci sta tantissimo, si vede che c'è lavoro dietro. Il branding mi è piaciuto, la boccetta in sé mi piace un sacco, fatta così, squadrata, semplice, con il tappo, lo sprayer spruzza molto bene, quindi mi piace, ma ora parliamo del succo vero e proprio. Allora, partiamo da Jean Musk, Jean Musk, io l'ho sentito in anteprima, quando ho conosciuto Alex la prima volta, la prima cosa che mi ha fatto sentire, mi fa, guarda, sto lavorando a questo progetto, la mia linea privata, che uscirà l'anno prossimo, e ho un qualcosa forse di mezzo idea per il profumo che uscirà, ed era Jean Musk, quindi io quando l'ho sentito ho detto, beh questo profumo sa di tè, ma no tè verde, sa di tè nel senso di Alex, se voi vi immaginate Alex, una persona comunque elegante, sicura di sé, che sa quello che vuole, ambiziosa, eccetera, quel tipo di persona, eccolo qui, infatti quello che io ho capito dalla linea privata, confronto agli Alex Plus, è che la linea privata sono profumi da Alex, cioè nel senso sono profumi che lui vuole avere, cioè quelle cose che piacerebbe a lui, trovare nel mondo della profumeria, quello che lui esprime nel mondo dei profumi, eccolo qua, quindi è il suo punto di vista, la sua creatività, la sua testa, il suo godor, quello che piace a lui in profumi, non saranno gli unici due che farà, e quindi ovviamente questi due sono i primi, e quindi diciamo che forse a lui neanche interessa poi così tanto, che la gente piaccia o meno, ovviamente se condividono le esperienze, comunque lui ha esperienza nel mondo dei profumi, quindi sa quello che piace alla gente, però secondo me qua c'è stato proprio una cosa di dire, quello che piace a me, ecco qua, quello che io voglio mettere, che sarebbe un po' alla fine l'idea che anch'io vorrei fare, se un giorno creerò il mio brand, e Gene Musk era quello che ha, nel momento in cui mi ha fatto sentire, dopo un bel po' di tempo, il secondo in test, quindi non definitivo, ho detto, buono, però il primo Gene Musk mi è piaciuto tantissimo, mi era piaciuto un sacco, sapeva da lui, molto elegante, Gene sta proprio per Gene, per Juniper Berry, e Musk, quindi molto signorile, è molto energia maschile, ma non da uomo, scomento, è indossabile anche da una donna, però questa energia forte, sicura di sé, elegante, mi piace tanto, è quello che dei due dura di più, le performance, non sono a livello di Golpar, quindi non è questa spezia che dura all'infinito, e si sente all'infinito, però è giusta, dura più del necessario, questo anche molto di più, a dirvi la verità, di Citrodora, ma penso che sia anche evoluta come cosa, perché secondo me ragazzi, non è tanto più una questione di performance, uguale buono, è questione di scelta di note, è questione di composizione, non è che se un profumo dura meno, vuol dire che ha di meno qualità, anzi, e poi è una cosa spesso evoluta, e sono apposta piccoli, anche per poterseli rispruzzare, anzi, sono anche intercambiabili, per rispruzzi un profumo alla mattina al lavoro, non vuoi che ti duri fino alla sera, perché vuoi cambiarlo, perché la sera vuoi indossare un altro, questa cosa è perfetta, soprattutto ovviamente ci sono profumi che performano poco, quindi ok, no, se profumi tre ore non ha senso, ma sei, otto, dieci ore, diciamo che siamo sul ottimo, quindi qua siamo sul ottimo, qua siamo sull'ottimo meno, buono più, però ci sta, perché alla fine comunque è un profumo fresco, ma ve ne parlo dopo. Jeans Mask di per sé, se volete leggervi le note, non ve le leggo, ve le trovate tutte sul sito, ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata, questa è la mia opinione personale, è approvato, l'ho fatto sentire, è più complesso, a tutte le persone, quando li ho fatto sentire entrambi, mi hanno detto tutti, questo è più complesso, è più particolare, mi piace, ad alcune persone è un po' più polarizzante, quindi non a tutti piace al 100%, altri dicono, non so, però poi quando hanno sentito la scia, tre persone mi hanno detto quando hanno sentito la scia, però, buono, ma che profumo è, ma è quello di prima, no, è impossibile, quindi c'è anche questa differenza poi di scia, e secondo me è buono, forse è quello che io associerei come odore più ad Alex, però vi devo dire, quello che pensavo mi piacesse meno, è una piccola, un piccolo tesoro del Citro d'Ora, questo è un profumo che io, vi giuro, è entrato a far parte della mia rotazione di ogni giorno di profumi, e all'inizio, a me i profumi freschi e grumati non piacciono tanto, quando ho sentito questa verbena, questi agrumi, questo verde e giallo, fortissimo, ho detto, ecco un altro profumo così, però era piacevole, l'ho continuato a testare, e vi devo dire, che dopo i primi due minuti, in cui c'è questa verbena, che ha un pugno in faccia fortissimo, il citralle, tutte queste note citriche, che veramente ti fanno, oh, così, inizia a comparire un tè nero, che lo rende dissetante, ma proprio piacevole, e poi inizia a comparire, delle ambre, dei legni, non lo so, diventa, la parte citrica va un po' a svanire, e la scia che lascia è pazzesca, non ha un, questo è più, lascia più una scia, ed è più forte attorno a sé, questo è un po' più subtle, però è proprio fresco, è dissetante, te lo spruzzi e dici, wow, mamma mia che buono, e ve lo giuro, ho fatto anche un video riguardo sulle storie, riguardo a questo, è uno dei pochi profumi, che a 10 su 10 persone, a cui l'ho fatto sentire, tutti mi hanno detto, wow, che buono, cioè, è difficile che io faccia sentire un profumo, a tutti, la maggior parte delle persone dice, ok, buono, buono, oppure, non fa per me, oppure, ma che cos'è, non capisco, qua la prima reazione è stata, buono, quindi è molto piacevole, è uno di quei profumi, che non è super polarizzante, è proprio piacevole, dissetante, fresco, bravo, mi è piaciuto, è proprio un bel lavoro, citrodore, è anche il nome esatto, è proprio dorato, questa cosa, anche il tè, il tè si sente tanto, mi piace tantissimo, ed è veramente piacevole, indossabile secondo me, in qualsiasi momento, sono come tutte le collezioni private, secondo me, non sono profumi, che vanno tipo associati a un'occasione speciale, o altro, sono proprio profumi signatures, quindi sono cose che se vi piace, lo potete indossare, ovviamente citrodore, essendo così bello fresco, anche per l'ufficio, anche per il giorno, in palestra, ovunque, è perfetto, Jane Mask forse, è quello che andrebbe a coprire, forse più parti, siccome citrodore magari in inverno, può soffrire, se andate all'aperto, magari volete essere sentiti a 100 metri, non è forse il profumo adatto, però se vi piace l'odore, indossatelo per voi ragazzi, c'è sta roba delle performance, a volte non è neanche il massimo, è meglio a volte avere una bolla intima attorno a sé, una nuvola intima attorno a sé, e far incuriosire le persone che ti sentono passare, o con cui ti saluti, piuttosto che disturbare persone che neanche ti vedono, ma sentono un odore nell'aria, Jane Mask invece è un po' più strong, tra i due, vedevo dire, sono talmente diversi, che forse io comunque sceglierei citrodora, perché è quello che mi ha colpito un po' di più, però Jane Mask lo utilizzo molto volentieri, quindi citrodora è entrato a far parte della mia rotazione completa, Jane Mask mi è piaciuto, ma vi consiglio comunque di provarli, non so se al momento che uscirà il video, ci saranno già possibilità di testarli, provarli o altro, in ogni caso sicuramente qualcosa si farà anche per trovare i negozi, insomma qualcosa sicuramente Alex inventerà, però vi devo dire, approvati Alex, sono super fiero di lui, ha fatto un ottimo lavoro, sono super contento che è una persona giovane, che abbia voglia di fare, che ragazzi io comunque dai video, Alex quando l'avevo visto la prima volta dicevo, no questo qua ha iniziato a fare video sui profumi, come me, io ho iniziato prima eccetera, poi l'ho conosciuto di persona, e siamo subito entrati in empatia, in contatto, subito una persona veramente squisita, brava, forte, coraggiosa, è diventato un po' il mio fratellone, maggiore nell'ambito lavorativo dei profumi, e ci stiamo supportando a vicenda, lui un po' più a me, però veramente, li voglio un sacco bene, sono super contento per lui, e basta, non vedo l'ora che escono gli altri, bravo Alex, citro d'ora, mi piace tantissimo, Gene Musk, mi piace molto, vedremo che cosa succederà, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, lasciate un commento, oppure iscrivetevi in qualsiasi cosa, e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!